Mia nonna ha 98 anni va a fare la sua visita ginecologica Ma era passato talmente tanto tempo dall'ultima volta che c'era stata che non si ricordava neanche più come si doveva mettere Cioè dove doveva mettere le gambe? Ce l'ha messo le braccia sulla poltrona Dice signora, non sono un dentista Dopo tre quarti d'ora mia nonna trova la posizione e finalmente il dottore infila il guante e comincia la visita Sì, 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 sì Scusi un attimo, pronto? Ciao Paolo, siete arrivati? Bella Venezia, eh tua moglie? Eh, le piace, come state? Bene? Io? Ma così e così, non è che Dimmi tutto Paolo, sei in piazza San Marco o devi arrivare alla stazione? Senti a me, prendi la prima a destra Se vai su c'è un giornalaio Facendo il giro del giornalaio a sinistra trovi una fontana A quel punto non ti puoi sbagliare Scendi giù, la prima a destra c'è la stazione Ciao Paolo, salutami da moglie, si gira mia nonna Oddio signora mi scusi, dove era Mauri? Mia nonna dottor, fammi fare un altro giro a Venezia Un applauso! Grazie 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 Grazie